Il senatore Pillon dice che mancano all'appello 6 milioni di vite, causa l'utilizzo della legge 194. Non è vero. Basta colpevolizzare le donne. Lavoriamo di più ad applicare pienamente una legge dello Stato e il senatore Pillon, che sta nelle istituzioni, deve contribuire ad applicarla. Rispetto per l'opinione di ciascuno, ovviamente, per la libertà di opinione, ma quando una legge dello Stato c'è, va applicata da parte di tutte e tutti. Nessuna donna sceglie di interrompere una gravidanza con facilità. E tra l'altro in Italia manca totalmente una politica di prevenzione. Varrebbe la pena che nelle scuole si insegnasse a prevenire il ricorso alla 194, intesa come interruzione di gravidanza.